Non riesco, non capisco, non sapre. Perché improvvio a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dietro. Che non la senti la musichetta? S'hanno proprio occupato casa nostra. Allora, siccome paghiamo regola d'affitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no. Ecco, tutta qua. Perché sta urlando lei? Non ho capito. E' stata a casa sua qui. Tra l'altro le manco c'era più casa sua, no? Io direi che dovremmo essere un filo tutti più ragione. E' vero, è vero, c'hai ragione. Vuoi se dire una cosa ragionevole? Sì. Ma vabbè a trafagulo. Non sa che hanno occupato l'interno sempre. No, il problema adesso è che la cazza è la maggioranza. Chi viene da sparare? Poi dice che uno finisce in galera. Ma che? Ma che sparare? Ma che sparare? Devi stare tranquillo. Ha perso per merda, ma te non hai capito con chi stai a parlare? Io ti faccio sparare. Quelli sono parassiti. Non vanno via più. Ti volevo fare una proposta un po' strana. Ma che sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. Eh? Ma che stai, Ruzzo? Arriverà il giorno che ci girano pure le nocciolite. Stiamo facendo una cosa senza senso. Perché non ci cerchiamo noi tre portaventi? Comodo, no? C'è pure il centro commerciale vicino. E come si, il giorno no. A mezzanotte e mezzesatta. Esce. Ce la sta caricando? Non va, migliorno. Fa' grazie. E' un giorno. Non lo metti in moto! Questi hanno già fatto roba. Questi hanno consumato, sì. Ma che stai? Non lo consumano. Che annoi, vedi? Come si chiama ragazzo? Sì, pure. Ci apre, per favore, le dobbiamo far vedere una cosa. E chi è Natale? Waita. 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 Grazie a tutti